Sono qui per un'altra nuova esperienza che mi ha portato a partecipare a questo master in management sportivo in collaborazione con la Scuola dello Sport e Lewis Business School che mi ha permesso fino ad ora di acquisire sicuramente un nuovo modo di vedere lo sport che per me fino ad oggi è diverso, essendo stata per tanti anni buttata in piscina. Adesso dall'altro lato seguire questo master per me è molto importante, sono sicura che mi porterà a vedere lo sport dal punto di vista manageriale ed è quello il mio obiettivo in questo momento.